La ginnastica è espressione dell'anima, del corpo. È possibilità di liberare ogni tuo sogno e farlo volare in alto fino al cielo. La ginnastica è la possibilità di esprimere appieno le tue emozioni solo con l'aiuto del corpo. È libertà, è amore, è gioia. Non bisogna sperare di arrivare in alto. Bisogna crederci. Dopotutto, se puoi sognarlo, puoi farlo. La ginnastica ritmica? In due parole. Mille emozioni. Grazie a te ho imparato ad usare le ali per volare. Ho imparato a sognare. Ho imparato ad affrontare gli ostacoli e a non abbassare mai la testa. Grazie a te ho imparato a non avere paura e delle sconfitte. Ho imparato cosa vuol dire sacrificio. Grazie a te la mia vita si è trasformata in felicità. Questa è la mia vita. Una passione da sempre. Un amore interrotto e risbocciato all'improvviso. L'ho ritrovato nei loro occhi, nella loro grinta, nelle loro paure. La ginnastica è totalizzante. Quando ti scoppia dentro non ti lascia più. Quando una cosa è fatta bene, sembra facile. Ma in ginnastica non è così. Quando indosso questo body mi sento una persona diversa. Una persona che non ha paura di nulla e che pensa solo a volare sugli attrezzi. Penso che con la ginnastica si possa toccare il cielo, perché è l'unico sportio capace di farti volare senza l'auscilio delle ari. Grinta, forza ed espressione. Mesi di duro lavoro per un solo minuto di esercizio. Questa è la mia vita. Questa è la mia vita. Questa è la mia vita.